Belen Rodriguez sembra pronta a fare parlare di sé ancora una volta. Questa volta con un risveglio curioso che ha attirato l'attenzione dei suoi seguaci sui social. L'ormai ex di Elio Lorenzoni sembra aver messo da parte l'idea di una nuova relazione. Almeno per il momento, concentrandosi invece sui suoi figli e sulla sua carriera. Questa mattina, la showgirl ha sorpreso i suoi follower con uno scatto insolito. Indossa solamente una t-shirt blu dell'Adidas, probabilmente utilizzata come pigiama durante la notte, e si è presentata davanti allo specchio per dare il buongiorno alla sua community. Un'immagine semplice ma al tempo stesso provocante, dal momento che Belen si è costretta a coprire le gambe con un grande cuore bianco, suggerendo che potesse trovarsi semplicemente, in mutande, sotto la maglietta blu. Ballando con le voci. Le voci su una possibile partecipazione di Belen al programma, ballando con le stelle, si sono diffuse da giorni, alimentando l'interesse dei fan. Nonostante le speculazioni, però, non c'è ancora stata conferma né smentita da parte della showgirl argentina. Tuttavia, Belen ha dimostrato di essere determinata a migliorare le sue abilità di danza, tornando a frequentare lezioni di danza classica e tango, suscitando così ulteriori domande sul suo coinvolgimento nel popolare show condotto da Millie Carlucci. Anche Selvaggia Lucarelli, giudice di «Ballando con le stelle», ha espresso la sua opinione in merito alle voci che circolano su Belen. Nonostante i rapporti tra le due non siano sempre stati idilliaci, Lucarelli ha dichiarato che la partecipazione della showgirl sarebbe «una bomba». Questo potrebbe rappresentare un'opportunità per riconciliarsi e iniziare una nuova fase positiva. «Così come è successo con altri partecipanti in passato». Potrebbe addirittura portare alla nascita di una nuova amicizia. Insomma, Belen Rodriguez continua a tenere alta l'attenzione dei suoi seguaci, sia con le sue mosse sul piano professionale, come le voci su una possibile partecipazione a «Ballando con le stelle», sia con i suoi post sui social, che suscitano curiosità e interesse. Resta da vedere se l'attrice argentina si unirà davvero al cast dello show televisivo. Ma nel frattempo i suoi fan possono sicuramente godersi i suoi scatti provocanti e le sue avventure quotidiane.